Comenta ulteriormente velocità, dall'esterno prova Pussi Chatterin, allo suo interno Prodito e Paola Balinela, poi ancora in corda prima dell'asile, verso in piegata con Paola Balinela al comando, all'argo Prodito, con la corda sempre prima dell'asile, poi Pussi Chatterin avanti app e permette quindi all'esterno il suo rival. L'avanguardia Prodito, avanti a Paola Balinela, Prodito al comando, Paola Balinela e Barancini ce l'hanno spostare all'argo, migliora intanto Plutone Jet, per le costi esterne anche poi chiusi, Plutone Jet passa avanti a Paola Balinela che nel frattempo aveva riscavalcato Prodito, dopo l'inizio di quattro cento completati in 31.1, così il nuovo leader a Plutone Jet, in seconda posizione Paola Balinela, in terza, ai mani Prodito, riesce dalla piegata, sempre in vantaggio Plutone Jet. 35, la seconda posizione, davanti alle tribune guida Plutone Jet, davanti a Paola Balinela, poi Prodito, che sale intanto Preziosus, nella cui siga la vera sistema pensiero di mare, la professore è la favorita, che può essere in vantaggio Plutone Jet, in seconda posizione Paola Balinela, in terza, in fuori Preziosus, in misura su Prodito, poi prima del fine, quindi all'esterno pensiero di mare, poi Pussi, che rin, con l'alato Plutone Jet, in seconda posizione 32.5, mollo che sposta Pilar di vento, la professore è la favorita, che passa ora, in seconda posizione, quando mancano 550 metri a stracuardo, Plutone Jet al comando, i suoi fianchi, Pilar di vento, in terza posizione, Paola Balinela, migliora da gruppo anche a posto di catfield, lungo l'arco della curva, Plutone di dentro, Pilar al suo esterno, 29.2 per reparto, Plutone Jet, e Pilar di vento in motto, passa, Pilar di vento, addirittura, con Pilar di vento in avanti a Plutone Jet, poi Paola Balinela, quindi prima del fine, si evidenzia Pilar di vento, Pilar di vento in avanti a Prodito, Pilar di vento in avanti a Prodito, Pilar di vento in avanti a Prodito, Pilar di vento in avanti a Prodito,